Il nuovo sito fondamentalmente nasce dal grande bisogno di comunicare notizie, notizie veloci e immediate che riguardano le opportunità per i ragazzi. Penso per esempio a quelle di mobilità internazionale di cui spesso ci chiedono e che sono notizie come al mondo d'oggi capita spessissimo molto veloci con scadenze rapide. Quindi è un contenitore soprattutto di notizie che speriamo possa essere implementato dai suggerimenti e dal contributo di tutti. Le altre due grosse novità sono un contenitore per gli eventi e anche questo va un po' a colmare quella che è una carenza della città, quella di avere un contenitore unico per tutti gli eventi della città. Spesso si sente dire no ad Arezzo non c'è niente, avete visto prima guardando il sito che in una stessa giornata ci sono decine di eventi, quindi era importante valorizzarli e speriamo con questo nuovo servizio di poterlo fare. Un nuovo straordinario strumento a disposizione della città di Arezzo, in particolar modo dei giovani aretini, cultura, formazione, lavoro, tempo libero, aggregazione, insomma è un sito che permetterà a tutti di avere informazioni su quello che succede ad Arezzo, su quelle che sono le opportunità fuori d'Arezzo, penso alle opportunità europee e su quelle che sono soprattutto anche le opportunità di lavoro, di formazione legata al lavoro. Un informa giovani che si rinnova nel sito ma che rilancia la sua presenza e le sue attività nel territorio.